Innescare processi virtuosi nei territori per far sì che il binomio disabilità e inclusione non sia un'utopia. È il senso dell'incontro tenutosi giovedì pomeriggio all'ex palestra G l'attore del Greco, un'iniziativa promossa dal circolo politico torese per le persone e la comunità. Esperti e mamme coraggiose si sono confrontati sui temi della disabilità e dell'inclusione raccontando le loro storie e risaggi quotidiani. Sensibilizzare la cittadinanza su queste tematiche cruciali per una società più equa e solidale, l'obiettivo dell'evento coordinato dalla professoressa Pina Di Donna, consigliere comunale e coordinatore del circolo torrese per le persone e la comunità. Presenti l'assessore alle politiche sociali Maria Teresa Sorrentino e il sindaco Luigi Mennella. Ci confrontiamo sul tema della disabilità che è un tema che a noi sta a cuore, che al partito per le persone e la comunità sta molto a cuore. Ci confrontiamo con ospiti importanti, abbiamo due mamme coraggiose, una è mamma di un ragazzo disabile, l'altra è una mamma che è diventata mamma nonostante la sua disabilità, abbiamo Toni Nocchetti che è per noi un relatore speciale che ci aiuta a ragionare, a riflettere sul tema della disabilità e poi abbiamo tante persone che ci aiuteranno a capire bene quali sono le necessità di questo mondo così che noi come amministratori comunali possiamo al meglio programmare interventi necessari per questa utenza, per queste persone. Sindaco Luigi Mennella, disabilità e inclusione è un'utopia? No, basta evidentemente lavorare tantissimo perché è un concetto che probabilmente nel corso degli anni è un po' distante diciamo dalla gente e che però questa amministrazione tiene ben presente e che invece ha voglia di farla diventare realtà. Tra i relatori di spicco, Toni Nocchetti, presidente dell'associazione Tutti a Scuola, figura di rilievo nel panorama dell'inclusione scolastica. Abbiamo cercato di pensare se queste due parole possono essere coniugate, forse sì, forse no e in fondo è una questione apertissima che richiede l'impegno da parte di tutti. Mi sembra che l'impegno ci sia, quello che è necessario è probabilmente attuare processi virtuosi che si fa fatica a innescare nei territori. Credo che però questa esperienza, come tante altre, ci dimostrano che la voglia di riscatto, la voglia di includere esiste, anche se le difficoltà non mancano anche e soprattutto nei nostri territori del sud. Non sono mancate le testimonianze nel corso del dibattito. Carmela Russo dell'associazione Mamme e disabili, una sua testimonianza. Stiamo qua proprio per quello, per dare testimonianza della nostra realtà e sperando nell'inclusione soprattutto che non sia un'utopia. Sono un'autrice, scrittrice del mio libro Una gravidanza speciale. Sono una bis mamma in carrozzina. Dobbiamo educare la società all'inclusione, quindi è per questo che sono diventata influencer e per arrivare e lanciare il giusto messaggio a quante più persone possibili.